Il liceo scientifico Giovanni Falcone L'istituto è composto da un corpo principale, articolato su due livelli, ed è costituito da 26 aule didattiche, 5 aule speciali per laboratori, una biblioteca, una sala di unioni ed uffici di segreteria. Accanto ad esso, ma in modo completamente autonomo per consentire l'utilizzo anche da parte di un'utenza esterna alla scuola, la palestra, dotata di un campo regolamentare polivalente di pallacanestro e di pallavolo, oltre che di spogliatoi e servizi. È il primo istituto superiore della fascia costiera Barcaturo-Lago Patria. A breve inaugureremo anche un ampliamento all'istituto Galvani di 12 aule e in costruzione l'istituto alberghiero Aqualiano che l'anno prossimo inaugureremo. L'anno scorso abbiamo inaugurato il nuovo istituto segreto a Mugnano, quindi l'attenzione per l'utilizzo scolastico da parte della città metropolitana e del sindaco dei magistris enorme. Già da oggi per le prime e le quinte classi dell'istituto, che è una succursale dell'Isis Falcone di Pozzuoli, la campanella è suonata nel nuovo edificio. Prossimamente vi si trasferiranno anche le seconde, le terze e le quarte per una popolazione scolastica complessiva stimata in circa 600 alunni, che potranno godere di una struttura dotata delle più moderne tecnologie per la loro formazione. Questo territorio è finalmente una scuola superiore e vuol dire anche non fare allontanare i ragazzi, vivere nel proprio territorio, migliorare il proprio territorio e sarà il prosieguo di un lungo discorso di legalità avviato agli altri istituti, che ovviamente diventerà ancora più forte con questa bellissima struttura che abbiamo ricevuto. Il costo complessivo dell'investimento è stato di circa 6 milioni di euro, interamente finanziati dalla città metropolitana. Soddisfatto il sindaco De Magistris, secondo cui si tratta di una scuola che ha tutti i comfort, siamo contenti perché in questi anni in cui ho guidato la città metropolitana abbiamo messo in campo il più imponente investimento che ci sia mai stato dal dopo terremoto in poi sulla ex provincia di Napoli, oggi città metropolitana per quanto riguarda le ridizie scolastiche. Quindi questo è un bel risultato di squadra, chiaramente, non è un merito solo mio, è un merito di tantissimi che ci credono, della comunità scolastica, dei dipendenti, dei dirigenti, dei consiglieri metropolitani, dei sindaci dei territori, insomma davvero un grande lavoro di squadra. Nel giorno dell'inizio dell'anno scolastico il sindaco ha voluto rivolgere il pensiero a tutti gli studenti dell'area metropolitana, ai quali ha augurato innanzitutto di difendere la scuola pubblica, che è fondamentale, di difendere queste strutture che consegniamo, perché è vero che facciamo tante inaugurazioni ma è anche vero che ci sono tante vandalizzazioni e questa è davvero una cosa brutta. La scuola la dobbiamo difendere tutti, perché quando si attenta a una scuola si attenta al futuro, alla libertà, alla democrazia. Il contrasto alle mafie, il contrasto alla camorra, il contrasto alla corruzione comincia alle scuola.